Il Governo ha varato il nuovo decreto sul Super Green Pass. Dopo giorni di discussione, il Governo Draghi ha dato il via libera al nuovo decreto legge che introduce il Green Pass solo per vaccinati e guariti dal Covid. Le nuove norme scatteranno a partire dal prossimo 6 dicembre. Prevedono, tra le altre cose, l'obbligo vaccinale per docenti e forze dell'ordine a partire da metà dicembre e l'obbligo di terza dose per tutto il personale sanitario. Resta in piedi dunque il sistema dei colori delle regioni, con la suddivisione in zona bianca, gialla, arancione e rossa, che prevede limitazioni progressive legate all'incidenza settimanale dei casi su 100.000 abitanti, l'occupazione delle terapie intensive e dei reparti ordinari. Ma ci sono diverse novità. Il Super Green Pass scatterà dalla zona bianca, il che significa che senza il certificato rafforzato, rilasciato solo ai vaccinati e ai guariti, sarà precluso l'accesso a cinema, teatri, musei, bar e ristoranti al chiuso, eventi sportivi, stadi, discoteche, cerimonie. La mascherina all'aperto non sarà obbligatoria, ma dovrà invece essere indossata in fascia gialla, arancione e rossa. È comunque sempre necessario averla con sé in caso di assembramenti. Le discoteche resteranno aperte anche in zona gialla, ma con capienza ridotta, 75% all'aperto e 50% al chiuso, mentre cinema e teatri dovrebbero mantenere anche in zona gialla la capienza del 100%. Le chiusure quindi saranno rivolte solo ai non vaccinati, che potranno invece continuare ad andare al lavoro scaricando la certificazione verde semplicemente sottoponendosi al test molecolare o antigenico. La durata dei tamponi non è cambiata. I non vaccinati in possesso di un test negativo, quindi con il Green Pass base, potranno continuare a viaggiare a bordo di treni a lunga percorrenza e sugli aerei. Ma con il nuovo decreto, il Green Pass, con tampone, verrà richiesto anche per il trasporto pubblico locale e sui regionali. Anche negli alberghi e nelle strutture ricettive sarà richiesto il certificato semplice, che servirà anche negli spogliatoi per le attività sportive. Nelle palestre e nelle piscine il Green Pass era già obbligatorio e per queste attività non ci sono modifiche. Anche in zona arancione le restrizioni scatteranno solo per i non vaccinati, ma la fascia arancione non prevede più la chiusura di ristoranti e bar che rimarranno aperti e resteranno aperti anche cinema, teatri, musei, palestre, impianti di sci. Le capienze delle attività saranno le stesse della zona bianca e gialla. Le novità è che nel passaggio di colore che può avvenire nel caso in cui le regioni dovessero superare determinati indici di ospedalizzazione in area medica e terapia intensiva, noi eviteremo restrizioni per le persone vaccinate, ha spiegato Speranza. In zona rossa dovrebbero invece scattare chiusure generalizzate e limitazioni agli spostamenti per tutti e anche per i vaccinati e i guariti. Questo è l'orientamento del governo con il ministro Speranza in testa. Lega e Forza Italia avrebbero invece voluto mantenere tutto aperto, compresi i bar e i ristoranti, anche in presenza di una risalita considerevole dei casi, facendo scattare il lockdown solo per i non vaccinati.